La sentenza di Garlascola, girandola dei sospetti, abbiamo anche il commento di Feltri e Laparietti, cuccioli e padroni, l'incidente stradale, la dieta dei ciccioni, le vacanze di Natale. Buongiorno a tutti, oggi giornata di commento alle elezioni, ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori. Adesso raccogliamole, sfrondiamo e arriviamo a certi punti che ci interessa sviluppare. Io siccome stamattina ho sentito tutto, ieri ho sentito tutto, quasi dalle prime ore prima dell'alba, vi dico le cose che mi sono interessate di più. Allora è molto interessante questa questione che i governatori sono stati riconfermati. Questa è una cosa molto importante perché un po' c'entra l'effetto Covid e un po' no. E un po' c'entra l'effetto dell'elezione diretta, dell'affidarsi direttamente a dei personaggi importanti. Una eccezione e ce l'ho come ospite che è il governatore Acquaroli delle Marche. Prima di dargli la parola vi presento anche l'altro ospite che ho già in linea che per me rappresenta un punto di riflessione che ho sentito stamattina interessantissimo. Matteo Richetti, che io colloco in una posizione esterna al PD, ma al momento è inutile che lo colloco perché come dice lui e come ha detto lui stamattina non facciamo vecchie analisi su fatti nuovi. Buon pomeriggio direttore. E poi ho anche una possibilità tra poco di un collegamento con Giovanni Toti. Ma prima Acquaroli. Io, va bene, a parte i complimenti Acquaroli che lasciano il tempo che trovano, lei ha fatto una protezza, no? Perché, diciamo, e poi sentirò Toti che fece la stessa cosa, ha espugnato una regione come le Marche. Ha espugnato perché? Perché sono 25 anni che era una regione che era di sinistra. Non è una sciocchezza, oggi tutti discutevano, ma la Toscana, Salvini. Va bene, prima di espugnare Toscana e Emilia ci vorrà ancora tempo per Salvini, che però lei ha fatto da solo, ha 45 anni, è un esordiente in politica che ha iniziato con le riunioni di Atreiu, come ricordo io, che è un movimento che si affiancava a Fratelli d'Italia e ha fatto da solo. Non è neppure del capoluogo delle Marche, è di Macerata, che mi vede molto legato perché mia mamma è sepolta al cimitero di Macerata, vado spesso per queste incombenze e anche per questo piacere di andare a portare un fiore. E quindi quando l'ho vista e l'ho seguita ho detto ma si sono resi conto o no che su quattro regioni rosse, Toscana, Emilia e poi però Umbria e Marche, Umbria e Marche hanno cambiato e Acquaroli ce l'ha fatta da solo? Le chiedo un commento su questa mia ipotesi, idea, riflessione. Beh, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Io dico una cosa, non ce l'ho fatta da solo, è stata una grande coalizione che è partita dal territorio, il centro-destra è riuscito ad allargarsi al mondo dei civici, al mondo di altri componenti della società civile che sicuramente hanno dato un contributo importante a renderci credibili, a renderci alternativi e a rappresentare un modello diverso di sviluppo della nostra regione. Quindi sicuramente mi fa molto piacere il fatto che siamo riusciti a vincere ma non è stata un'impresa mia singola, è stata l'impresa di una coalizione, è stata l'impresa e il successo di un grande gruppo, una grande squadra e soprattutto è stata la voglia, la volontà di cambiamento di tantissimi cittadini marchigiani che addirittura hanno dato un contributo così importante in una fase di pandemia. Non ci scordiamo che le elezioni si sono svolte in una situazione un po' particolare a causa della pandemia stessa e che nonostante questo sono andati in massa il 5% in più rispetto a 5 anni fa per spingere il cambiamento della nostra regione. Lei ci crede che questo movimento dei governatori così chiaro, ad elezione diretta, questo è stato? Perché lei dice io avevo una grande squadra e non c'è un presidente che non lo dica, però aveva forse una grande squadra anche Fitto, aveva anche una grande squadra Caldoro, però venivano da un'esperienza politica precedente, lei era nuovo, giovane e quindi io dico solo perché non aveva passato dall'armadio, insomma nel suo armadio ci sta meno roba che in quello di Fitto o di Caldoro. Fatto sta, lei ci crede che i governatori eletti così possono essere una novità anche politica in questo paese? Perché guardi che nelle altre regioni tutti i governatori, le loro liste sono andate meglio di quelle dei partiti che li avevano proposti. Zaia, Toti, De Luca, Emiliano. Guardi, io credo che il ruolo del Presidente di Regione è un ruolo importante nevralgico nel nostro sistema, nella nostra architettura, è importante però anche ricoprire e rispondere alle esigenze dei territori, non credo che bisogna immaginare una valenza ulteriore oltre a quello che già abbiamo e che sicuramente ci riempie di grandi responsabilità e di compiti assolutamente importanti, quindi ritengo che immaginare o creare una prospettiva differente rispetto a quella che è sia sbagliato e di via anche quella che contribuisca a mettere ulteriore confusione e di via rispetto a quello che è il ruolo che i Presidenti devono avere. Ritengo che il centro-destra in questo momento è sicuramente una coalizione che ha una grande spinta da parte del territorio e quindi è una responsabilità ulteriore e non per questo credo che sia importante che si riesti in maniera pragmatica attaccati a quello che è il nostro ruolo, il nostro compito che è quello di fare squadra e fare sinergia tra tutti ma rispondendo alle esigenze dei territori, a una visione che deve essere attaccata alle problematiche che affrontano quotidianamente tanti sindaci, tanti imprenditori, tanti giovani che se non trovano risposte poi sono costretti a andare fuori dalla nostra regione o addirittura fuori all'Italia. Bella risposta, buona risposta, complimenti, lei fa bene a rispondere così ma io la domanda non l'ho fatta per sbilanciarla, io la domanda l'ho fatta perché me l'ha fatta venire in mente un altro governatore di regione qualche tempo fa, non ora, qualche tempo fa che era il Presidente della conferenza Stato-Regioni Bonaccini che diceva se da un lato c'è il governo e per il momento non si tocca e si va a chi sa al 2023, dall'altro piatto della bilancia non c'è l'opposizione ma c'è questo scenario politico dei Presidenti delle Regioni, mi ha fatto ballenare un'idea, io gliel'ho sottoposta ma lei ha risposto come deve fare il neopresidente Acquaroli e d'altra parte come ha fatto anche questa mattina il Presidente di Confermato Zaia, la ringrazio, le faccio i miei migliori auguri e vado immediatamente da un'altra parte da una persona che conosco benissimo, un mio amico e che Ricchetti mi avrà pazienza perché se sta seguendo sa benissimo dove sto arrivando perché io l'ho sentito già dire da lui stamattina qualcosa di analogo, poi vedremo se siamo d'accordo, ma intanto vado da Giovanni Totti perché Giovanni Totti ha compiuto 5 anni fa la stessa impresa di Acquaroli adesso, dopo 5 anni però non c'è stato il ritorno degli dei che erano caduti, no è stato riconfermato Totti con 20 punti di scarto e la sua lista ha preso molto di più della somma dei partiti, 20 punti di più dell'altra volta ed è uno dei fenomeni assieme a Zaia e agli altri che citavo di questa nuova realtà italiana, cioè governatori che governano e nella regione è come il governo di più anche in certi casi del governo nazionale viene sentito e che creano un movimento attorno a loro che è un movimento concreto, reale, di sostegno alle cose che fanno, non ad una ideologia. Totti è così? Ciao Paolo, buon pomeriggio a tutti. Direi che tanto qua diamo i dati politici, provo a fare il giornalista per te. Uno, era l'unica regione in cui l'alleanza specchio del governo si è presentata contro il centro-destra, cioè PD, 5 Stelle, Sinistra insieme esattamente come governano Roma, non hanno superato il 40% dei voti, quindi il peggior risultato della storia della Liguria sia per il Partito Democratico sia per il Movimento 5 Stelle che ormai è un partito ad una cifra e ricordiamo che Beppe Grillo vive qua a Sant'Ilario e schieravano un giornalista del Fatto Quotidiano che è il loro house organ più o meno dichiarato. Questo per quanto riguarda i nostri avversari. Per noi 20 punti di più, avevamo vinto con il 34 nel 15, chiudiamo con il 56, quindi 22 punti in più di quanto avevamo fatto l'ultima volta con una lista che porta il nome del governatore, primo partito assoluto in Liguria. Tutti poi fanno il paragone con la Lega per mettere un po' di zizzania, che ha fatto una prestazione intorno al 18%, ma io rilevo che in Liguria, e tu conosci la storia della Liguria, da Sandro Pertini a Pari De Battini e Camalli, avere una lista di moderati del centrodestra, primo partito sopra la sinistra e il PD, credo sia qualche cosa francamente di storico, molto più che non la composizione con il bilancino della coalizione di centrodestra, che poi è stata premiata tutta, cresce Fratelli d'Italia, la Lega mantiene sostanzialmente i voti delle ultime regionali, il movimento di Totti prende tutta un'area di orfani, diciamo, di un'area moderata di questo paese, a destra e a sinistra e la traghetta in una coalizione di centrodestra, credo sia un bel esperimento politico. Ed è contento Giovanni, ed è contento perché l'ho sentito dalle tue parole, anche Silvio Bellusconi, il Presidente di Forza Italia che ti ha telefonato e si è complimentato, ed è una cosa da sottolineare. Ho sentito stamani, il Presidente mi ha fatto molto piacere, siamo stati a lungo al telefono, devo dire l'ho trovata anche in buona salute, che è la cosa che mi interessava di più, visto l'affetto per lui, mi ha chiamato anche Gianni Letta, abbiamo parlato abbastanza distesamente di questa avventura, ci siamo anche ripromessi di sentirci e di vederci al più presto, non appena il Presidente Berlusconi starà ovviamente meglio, così come mi sono messaggiato anche con Giorgia Meloni, avevo visto due giorni fa Salvini, insomma qua la coalizione è una coalizione stabile, salda, direi senza particolari scossoni, però il fatto che si sia riusciti ad allargare una coalizione al 56%, al 56% in una regione tradizionalmente di cultura, diciamo di centro-sinistra, è un risultato non banale perché significa che se la coalizione è equilibrata sa espandere il suo consenso anche in aree che tradizionalmente non la votano e non solo, nel Veneto, nella Lombardia dove siamo abituati a prestazioni importanti perché sono aree da sempre affezionate al mondo del centro-destra in cui la Lega ha un radicamento è una cultura importante, ma devo dire anche in regioni come questa. Ascolta, hai capito bene dove andavo a parare quando ho fatto questo esempio, che poi l'elezione dei Presidenti delle Regioni funziona e che non c'è politica che si intrometta troppo, c'è la figura del Governatore e che potrebbe essere quella una ripartenza della politica sul territorio. Però prima di rispondere… Io spero, guarda Paolo, spero solo, così ti lascio la palla, spero solo che il combinato disposto di un referendum per certi aspetti è anche discutibile, ma che comunque modifica l'assetto istituzionale delle Camere e il successo delle Regioni, perché il mio, quello di Luca, ma anche quello di Emiliano e di De Luca, a modo suo controlli dalla figura delle Regioni. Spero sia lo spunto per delle profonde riforme istituzionali che in questa legislatura si potrebbero… Volevo arrivare proprio lì, perché visto che questo referendum taglia i parlamentari, modifica la Costituzione, non c'è dubbio che sia così e per di più taglia anche la base elettorale del Presidente della Repubblica, adesso io voglio chiedere a Matteo Richetti se non siamo arrivati ad un punto in cui è maturo che il Presidente prossimo, visto che ci arriviamo con un Parlamento completamente cambiato, quello successivo, perché si tratta di dire eleggiamolo con questo ma abbiamo già votato che saranno 500 in meno, allora scusate, se funziona questo meccanismo che Richetti ha indicato bene stamattina, ha detto questa è una politica concreta, quello dei governatori, se non ho sbagliato a sentire, se non ho sbagliato a sentire e ha detto una cosa importante, è inutile che continuiamo a fare le analisi su un fenomeno nuovo, analisi vecchie che fanno riferimento a Salvini, Zingaretti, tanto i Presidenti eletti del centro-destra non fanno riferimento più di tanto a Salvini e quelli eletti dalla sinistra non fanno riferimento più di tanto a Zingaretti ma sono persone che fanno riferimento al loro territorio, allora non sarebbe il caso di arrivare alla prossima elezione del Presidente, è una bestemmia che sto dicendo, con l'elezione diretta dice ma tu vuoi cambiare la Costituzione? Io, io non l'avrei cambiata né quando lo voleva Renzi e neppure quando lo voleva Di Maio, ma la cambiano come se fosse un gioco, Richetti. Direttore ha introdotto molte cose sulle quali penso che la pensiamo abbastanza allo stesso modo, il primo punto è che stamattina io e lei eravamo all'alba, erano le 7 del mattino in una trasmissione alla quale avevano vinto tutti tanto per cambiare, aveva vinto il PD perché aveva per la seconda volta arginato Salvini, aveva vinto Renzi perché la Toscana aveva tenuta, aveva vinto il centrodestra perché oggettivamente rispetto al quadro precedente delle regioni cresce con una regione in più, cioè le Marche rispetto al quadro prima del voto, però c'è un punto che mentre tutti fanno la corsa ad essere il primo partito i Presidenti eletti, come faceva giustamente notare lei, sono loro stessi il primo partito del territorio che li ha sostenuti, perché se sommiamo Campania Libera e De Luca Presidente che succede in Campania, il Presidente Toti al quale faccio le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro perché ci aspettano anni difficili a tutti i livelli, ha fatto altrettanto, devo dire con un risultato della lista cambiamo assolutamente di rilievo, lo ha fatto largamente Zaia. Io formula anche un auspicio che poiché il civismo e i laboratori civici funzionano in una dimensione di prossimità al territorio, a livello nazionale servono grandi partiti liberali, riformisti come le culture che interpretano anche alcuni degli eletti in queste elezioni regionali e Azione si candida proprio a rappresentare a livello nazionale anche il sostegno che a livello territoriale segue la figura del Presidente, quell'esperienza di governo, quelle proposte per il territorio. Fa un po' sorridere che la prima cosa che rivendica il segretario del PD è se i 5 Stelle ci avessero ascoltato e fatto alleanze in più territori avremo un risultato migliore. Hanno vinto solo dove non sono andati quei 5 Stelle e hanno perso nell'unica occasione che l'hanno fatto, lo ricordava adesso Toti, la Liguria. Era già successo tra Umbria ed Emilia, cioè in Umbria con i 5 Stelle sconfitta in Emilia senza vittoria, eppure il PD si ostina a dire che quella è la direzione giusta. Sa perché il direttore si ostina a tenere quel punto? Perché siccome sa che devono governare tre anni con un Parlamento ormai che ha una fotografia ampiamente superata, i 5 Stelle non hanno più quel 33% che in Parlamento li porta ad essere la prima forza parlamentare, devono alla mattina giustificare un accordo romano che consente di continuare a governare e al pomeriggio trovare una spiegazione su quello che applicato sui territori non premia mai, perché ad oggi non c'è una elezione nella quale i 10 e i 5 Stelle abbiano vinto davanti agli elettori. Concludo sull'aspetto delle riforme. Io penso che seguendo esattamente la riflessione che faceva lei, cioè oggi è più contraltare del governo, la conferenza delle regioni, che il Parlamento stesso, i tempi sarebbero maturi perché dopo questo taglio, che come lei sa io non ho condiviso perché è un taglio che non produce fine a se stesso nessun miglioramento, la seconda Camera diventasse una Camera delle Autonomie. C'è un luogo nel quale quella concertazione istituzionale, quel confronto istituzionale tra Stato e regioni avesse una dimensione costituzionalizzata, perché oggi, le dico la verità, su un provvedimento, il decreto agosto, il decreto rilancio, il decreto semplificazione, può molto di più un Presidente di regione che un Senatore della Repubblica, perché il Senatore della Repubblica butta un emendamento in un processo nel quale nel 90% c'è fiducia del governo, non si discute tutti a casa. Il Presidente di regione vive di una concertazione necessaria. Questa riflessione è importante e la voglio girare a toti, anche se sappiamo tutti e tre che visto che c'è stato un referendum l'altra volta non sarà facile proporre quello che invece nella realtà dei fatti sarebbe molto più concreto, e cioè una Camera e poi fa leggifera sulle leggi nazionali è un'altra, quello che era il tema dello scorso referendum, quello della riforma cosiddetta Renzi, però non si potrà riproporre. Però questo tema, che praticamente è diventata l'altra Camera o comunque un contraltare della politica al governo i Presidenti delle regioni, è vero toti, no? Credo che le regioni si siano ampiamente rischettate da un periodo buio che noi ricordiamo bene, perché io lavoravo con te, facevamo i giornalisti, i scandali, i fondi, le cose, insomma avevano perso parte della loro credibilità, l'hanno diciamo emendata anche dolorosamente e riconquistata facendo un serio lavoro anche in quest'ultimo periodo sulla pandemia, dove devo dire molto spesso con Stefano Bonaccini, con Luca Zaia, con Emiliano, con De Luca abbiamo realmente spronato il governo ad avere coraggio, a fare delle scelte diverse sulle linee guida, abbiamo gestito una sanità in un momento non facile, quindi credo che questo venga riconosciuto. Oggi ci sono le condizioni, credo, per fare quelle riforme che in parte erano anche le riforme di Renzi, sia pure malamente scritte e peggio proposte come un referendum personale. Io dico una cosa molto banale, non sono un architetto costituzionale, ma dico che se un sistema funziona non fa danno a nessuno copiarlo. Il sistema tedesco con un cancelliere molto forte, dei lander e delle città Stato con ampissime autonomie, penso ad Hamburgo, penso alla Baviera. Credo che sia una Camera che regifera su temi di carattere nazionale, la sicurezza, la fiscalità e una Camera, il Bundesrat, che vede proposte le regioni come elementi centrali. Credo che sia un'architettura costituzionale che ha funzionato nella Germania federale, che si è inglobata l'ex Germania democratica, che ha saputo tenere la prima economia d'Europa in equilibrio politico per 70 anni. Buona proposta, io penso di lavorarci perché poi alla fine in Italia è certamente più facile che arrivare all'elezione diretta del Presidente che mette un po' paura a tutti, perché questo ruolo di delega che il Parlamento si vuole assumere non intende rinunciarci, anche se pensiamo a questo Parlamento e la sua rappresentatività. Oggi stiamo sfogliando i voti dei comuni. Per la verità Paolo, siamo davanti a un governo che ha governato per tutta l'emergenza con dei DPCM che sono un atto amministrativo, siamo anche oltre il semipresidenzialismo. Siamo oltre il semipresidenzialismo. Non credo che il potere che si abbia, sarà forse il Presidente degli Stati Uniti con l'ordine esecutivo. Esatto, io penso la stessa cosa e se sfoglio adesso i voti dei comuni, perché si vota, si stanno aprendo, si sono aperti i seggi delle comunali, la rappresentatività di quel blocco di maggioranza relativa che siete in Parlamento, che si chiama Movimento 5 Stelle, sul territorio è risibile. Ha ragione Totti quando dice a una cifra, forse due, il dieci, l'undici. Questo viene fuori dalle urne, vediamo. Però voglio lavorare su questa proposta. E chiedo a Richetti, perché mi sembra simile, un liberale dalla Liguria, un riformista dall'Emilia, perché Richetti viene da lì, viene da Bologna, possono trovare in una cosa del genere un domani una sintesi? Sì, è un modello assolutamente simile a quello sul quale stavo ragionando. Io penso, direttore, che oggi non abbiamo una maggioranza in grado di riformare in profondità le istituzioni, il procedimento legislativo, le funzioni del Parlamento. Tant'è vero che in Senato due settimane fa, sul solo voto anticipato dai 25 ai 18 anni per il Senato, che viene equiparato alla Camera, la maggioranza si è spaccata con Italia Viva che è uscita dall'aula. Invece, dopo questo referendum, rafforzare il Senato con una modalità anche alettiva di rappresentanza delle regioni, differenziando l'elemento della funzione, che so, lo diceva adesso Totti, su alcune materie, quelle famose che erano dentro la concorrenza legislativa, un parere finanche vincolante sul processo legislativo e lasciare ad una sola Camera voto di fiducia e materie nazionali dalla sicurezza all'immigrazione. Questo almeno farebbe fare due mestieri diversi e complementari, eviterebbe quel famoso bicameralismo perfetto e paritario che fa sì che oggi, direttore, per semplificare, ogni provvedimento viene esaminato da un solo ramo e nell'altro viene approvato con fiducia questa discussione. Perché tenerci un bicameralismo perfetto che è solo un problema e non valorizzare invece il rapporto con le regioni? È così, ma credo che siate abbastanza d'accordo, molti, a mettere. Io sono felice di aver fatto il giorno dopo le elezioni una riflessione magari noiosa, di carattere istituzionale, grazie a Totti, grazie a Richetti e con la sorpresa di Acquaroli, perché siamo usciti dallo schema solito, è un po' triste, ho vinto o non ho vinto, è quello che abbiamo sentito stamattina con Richetti, chi ha vinto, chi ha perso, ha perso Salvini, ha vinto Zingaretti, ma su, Zingaretti come persona, Emiliano e De Luca l'hanno riempito di insulti e Salvini probabilmente tutto quello che si è mosso, si è mosso un po' lontano da lui. Allora, mettiamo le carte in tavola, sono tutte personaggi che hanno il loro merito, però noi dobbiamo credere nella libertà degli elettori, perché si dice da tempo non portiamo mai a votare gli elettori, quando sono andati a votare hanno votato, poi hanno votato pure per diminuire i parlamentari, però bisognerà riflettere su questo. Grazie a Richetti, torneremo su questi argomenti costituzionali, di riforme eccetera, grazie a Totti, grazie a Acquaroli, fatemi sfatti, si ferma qua la linea al Tg.com e proseguiremo nell'approfondimento oggi. Buona giornata.